Se un nemico costruisce un muro il video finisce Salve tutti però volevo dirvi una cosa prima di startare con la sfida Io ragazzi ho ricevuto i drop per Hyper Escape Quindi se andate sul sito Viola, sul mio canale E guardate le mie live mentre gioco appunto ad Hyper Escape Avrete la possibilità anche voi di ricevere il gioco Quindi ragazzi vi invito ad andare in descrizione nella sezione live streaming Ed iniziare a seguirmi sul canale del sito Viola Probabilmente saremo online tutto questo pomeriggio e anche nei prossimi giorni Quindi mi raccomando ragazzi tenetevi aggiornati Ok ragazzi ci stiamo direggendo nel mondo di Hyper Escape per tentare la sfida di oggi Che se un nemico costruisce un muro il video finisce Ricordo a tutti ragazzi che il muro in Hyper Escape si può costruire tramite un'abilità Perché? Per chi non lo sapesse ragazzi perché non abbiamo magari ancora visto i video che ho fatto di Hyper Escape In primis vi dico andateli a vedere subito dopo questo Ma un'altra cosa appunto che voglio dirvi sono le abilità In questo gioco sono presenti le abilità Cioè avete potuto avere modo di vedere io appena ho ottenuto rivelazione Che permette di vedere i nemici e poi anche teletrasporto Che appunto ti permette di teletrasportarti un po' Ora un'abilità tra queste è per esempio anche quella di poter costruire un muro Magari se ti stanno piccando non lo so tra i nemici E tu costruisci un muro in modo da poterti separare Quindi respirare un attimo o cercare comunque di scappare Quindi ora diciamo il nostro obiettivo principale è quello di sperare di non trovare un muro nemico Perché quelli alleati ragazzi non fa niente diamoli per buoni lasciamoli stare E tra l'altro si riescono a distinguere da quelli nemici perché sono azzurri Mentre invece i muri alleati sono rossi Cioè i muri non alleati quindi i nemici sono rossi Quindi insomma se riescono a vedere A parte che questa zona già si sta disgregando Già sta venendo meno non so cosa sta succedendo Per farvi capire raga guardate io ora piazzo un muro E questo è azzurro Quello nemico invece sarà praticamente rosso Quindi perciò si potrà distinguere Attenzione siamo tutti calmi C'è qualcuno che sta cercando di piccare i nostri compagni Sì effettivamente ci sta uno Vedo se riesco a eliminarlo io Ok kill pulita pulita Scusami per probabilmente essere la luvata man E allora c'è un altro notizio qua sotto Provo andare di prefire No vabbè però prefire con quale accento l'ho detto raga Calmi tutti che l'ha un po' smirata sto tipo Provo 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 No è scappato con lo slancio va bene Ora sei lì Dai dai il problema è che c'è il compagno Ok un altro eliminato Non stanno costruendo mura eh spero di non essermene accorto Veramente sto giocando decentemente ma Tenere in testa sta gente è difficilissimo Scappano come che Ok sta lì Eh raga aspettate coltello di trasporto Fortunatamente più posso seguirlo Dai 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 Vai fatte 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 fatto Un colpo Un colpo No ok veramente no se non li eliminavo sbroccavo fratelli Ok a posto E siamo a tranquilla raga non ce la stiamo cavando per nulla male Però qui credo che ci siano un botto di nemici Quindi comincio a sparmare pure ai miei compari Per farglielo capire Ma qui veramente secondo me ci saranno delle belle A questo ho utilizzato la sfera saliamo allora No 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 Ciao 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 No 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 questa cosa non sta da fare ragazzi Troppa gente sopra No 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 decisamente no Non mi piace non mi piace non mi piace Eh no raga sta affaita sta affaita Io devo dare una mano dai Ok un altro l'ho eliminato Non so neanche io come Perché Ma il mio compagno Che attualmente è fermo lì Non so neanche quanta gente sto eliminando Veramente Non ho mai fatto un game così decente su sto gioco Andiamo sopra dai Che magari da sopra riusciamo ad avere una visuale minore Ma tu sei alleato no Ma questo non si vuole far rianimare No eh non gli interessa Ah muro Nooo Nooo Nooo